Se rimarrà questa situazione in Veneto gli appezzamenti agricoli disporranno di acqua solo fino a metà maggio, si rischiano danni per un miliardo. A lanciare l'allarme è Cia Veneto, l'associazione di categoria a base al ragionamento si dati ARPAV che mostrano come nei primi 15-20 giorni di febbraio siano caduti mediamente 0,5 mm di precipitazione quando il valore medio tra il 94 e il 2022 dell'intero mese è stimato in 60 mm. A livello regionale preoccupano le magre portate dei fiumi, l'Adige ha perso un quarto, il Brenta il 37%, il Bacchiglione il 68%. In provincia di Belluno a dire il vero lo scostamento negativo sulle portate medie di fiumi e torrenti si aggira intorno al 10-15%. Torna alla mente il lungo periodo siccitoso dell'anno scorso quando si ragionò sul sistema acqua nel suo complesso alcune scorte idriche importanti per il bellunese come i laghi artificiali furono messe a disposizione anche dell'agricoltura di pianura garantendo un contributo nonostante i livelli bassi a causa del lungo periodo senza precipitazioni aggravato da alcuni incendi boschivi nello stesso periodo. Nel ragionamento di Cia Veneto ci sono anche alcune idee da mettere in pratica per far sì che questi rilasci non vengano inutilmente dissipati. Tra le soluzioni immediatamente praticabili gli agricoltori chiedono ai consorsi di bonifica la manutenzione e l'installazione di paratoie nei canali per trattenere l'acqua piovana e in chiave futura una realizzazione di appositi invasi in grado di trasformare ogni perturbazione in un'occasione di stoccaggio.